Grazie a tutti. E come magazzino utilizzano la casa al mare di una ignara terramana. Regione, tutti chiusi pagamenti relativi alla casa integrazione del 2013. IZS Caporale, dopo le dimissioni di Migliorati, nominato il nuovo direttore sanitario e Giovanni Savini. Camere di commercio, la CNA, i tagli rischiano di spegnere l'economia locale. Arte, da oggi a Teramo fino al 31 agosto, la mostra di Enzo Cucchi per Arte in centro. Coppa Interamnia, la macchina organizzativa a pieno regime, grazie anche ai tanti volontari. Sport, calcio, mentre nove squadre di Lega Pro sono in difficoltà, per Teramo e L'Aquila iscrizione ok. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. I ladri usavano la casa al mare a Tortoreto di una ignara proprietaria terramana per nascondervi quadri e abiti da sposa robati da una galleria d'arte. Il tutto per un valore di circa 80 mila euro. I carabinieri della stazione di Tortoreto, a conclusione delle indagini avviate dopo il furto messo a segno la notte del 4 aprile scorso nella galleria di Tortoreto, hanno recuperato l'intera refurtiva. In totale 142 quadri e 20 abiti da sposa. I carabinieri hanno scoperto che le opere d'arte e gli abiti erano stati parcheggiati nell'abitazione di una donna di Teramo che è risultata completamente strana ai fatti. L'abitazione è infatti utilizzata solo nei mesi estivi e a insaputa della donna i ladri hanno pensato bene di utilizzare l'appartamento come magazzino in attesa di piazzare il bottino a qualche ricettatore. E in ospedale all'Aquila un 58enne romano infortunato si eri durante una scalata ai pilastri di Intermesoli sul Gran Sasso. Sulla via a nuvole barocche ha perso l'appiglio ed è volato giù con un blocco di calcare. L'amico incordata ha chiamato il 118, giunto con l'elicottero, tecnico del soccorso alpino e sanitari. Dopo le prime cure in parete l'uomo è stato trasportato in ospedale solo con alcune fratture. Per fortuna l'elicottero è poi tornato per recuperare l'alto alpinista e i soccorritori del soccorso. Sono tutti chiusi i pagamenti relativi alla cassa integrazione dell'anno 2013. Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro Marinella Sclocco nella riunione della CICAS a Pescara. Sentiamo. Il Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore, il CICAS, che si è riunito a Pescara, ha accolto tutte le istanze di cassa integrazione in deroga relative all'anno 2013, istruite positivamente dalla Direzione Lavoro della Regione, nel limite complessivo massimo di spesa pari a 387 mila euro. Il Comitato ha convenuto di autorizzare la proroga per la presentazione delle istanze di cassa integrazione e mobilità in deroga relativi all'annualità 2014 per i periodi che vanno dal 1 luglio 2014 al 31 agosto 2014. Il CICAS all'unanimità ha chiesto che il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, in occasione del Comitato delle Regioni del 10 luglio prossimo, ribadisca l'impegno della Regione Abruzzo sulle richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014. Sulla 2013 posso dare una buona notizia, cioè che la Regione Abruzzo chiude tutti i pagamenti delle casse in deroga 2013. Per quanto riguarda il 2014 abbiamo un'interlocuzione continua e costante con il Ministero, anche tramite la Commissione Nazionale, formata da tutti gli assessori al lavoro di tutte le regioni d'Italia, presieduta da Simoncini, l'assessore della Toscana, per chiedere naturalmente i fondi per la cassa in deroga, anche per l'Abruzzo, ma ripeto è un problema nazionale di tutte le regioni d'Italia. Sicuramente una cosa ottenuta è la proroga e quindi fino al 30 agosto, data quindi ai lavoratori e naturalmente ai datori di lavoro per la richiesta di cassa in deroga. L'impegno della Regione è naturalmente quello di fare insieme alle altre regioni pressioni sul Ministro Coretti affinché possa in qualche modo essere più chiaro rispetto ai fondi. E soddisfatti i pescatori abruzzesi, dicono era ora, finalmente i pescatori potranno ottenere i ristori per il fermo biologico e l'integrazione 2013. E' quanto affermato da Walter Squeo di Federpesca Abruzzo, una boccata di ossigeno per i pescatori della nostra regione attanagliati da una crisi che non ha precedenti e abbraccia tutto il settore peschereccio. Infatti, logicamente, noi rispettiamo tutti i cavigli imposti dalla comunità europea, ma non possiamo attendere più di un anno per avere quello che è un diritto. Adesso prosegue Squeo, tutto appare risolto e i pescatori avranno i loro diritti a breve. La situazione delle province è al vaglio della regione e Catarra, spiega l'incontro con D'Alfonso, è stato soddisfacente e pienamente operativo. La situazione finanziaria, strutturale e amministrativa delle province è al vaglio della regione. Nel corso del primo incontro con il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, riunione definita da Walter Catarra pienamente soddisfacente e molto operativa, è stata rappresentata una situazione decisamente complessa, in una fase istituzionale particolarmente confusa. In particolare, i quattro presidenti di provincia hanno presentato alla regione il conto dei crediti vantati dagli enti locali verso la regione, le risorse della manutenzione ordinaria delle strade, quelle per edilizia scolastica, quelle per il trasporto di sabili, per citare le voci di spesa di servizi essenziali e sensibili. D'Alfonso ha riunito attorno al tavolo i dirigenti regionali e buona parte della Giunta, dice il presidente della provincia di Teramo Catarra, ponendo le condizioni per un confronto totalmente operativo. Ci ha chiesto una dettagliata e rigorosa perizia di spesa su tutti i servizi in sofferenza. A mia volta, ha aggiunto Catarra, ho convocato per martedì e mercoledì prossimi una riunione con direttore, dirigenti e assessori per procedere celermente a formulare l'elenco delle priorità. In seguito, ci ha assicurato D'Alfonso, ci si occuperà della partita relativa a funzioni e dipendenti. Intanto, con una nota ufficiale, il ministro delle autonomie locali, Maria Carmela Lanzetta, invita le province a garantire quelle funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono attribuite alle province, raccomandando l'adozione di ogni iniziativa atta a preservare la piena operatività delle strutture e la continuità dei servizi. Una raccomandazione paradossale e contraddittoria, dice Catarra, perché continuare ad assicurare i servizi con l'ulteriore taglio agli enti locali contenuto nel Decreto 66 è circostanza impossibile, visto che già ora non sappiamo come coprire le spese per servizi essenziali e sensibili. Il quadro istituzionale viene sicuramente complicato dal fatto che il Presidente e gli amministratori provinciali hanno dovuto riprendere le abituali attività lavorative e che la loro presenza nell'ente non può che essere saltuaria e in orari non rispondenti a quelli degli uffici. Intanto sono arrivate le direttive del Ministero per le elezioni di secondo livello che dovrebbero svolgersi il prossimo 28 settembre. Nominato il nuovo direttore sanitario dell'Istituto Zoprofilattico Caporale di Teramo si tratta del dottor Giovanni Savini. Il dottor Giovanni Savini è il nuovo direttore dell'Istituto Zoprofilattico Caporale di Teramo. Dopo le dimissioni del direttore sanitario Giacomo Migliorati, uomo da sempre della vecchia guardia posta dall'ex direttore Vincenzo Caporale a Baluardo del Fortino Scientifico di Campo Boario, Migliorati ha sorpreso tutti con le sue dimissioni da responsabile sanitario della struttura. Il direttore generale, Fernando Arnolfo, definì l'atto oggettivamente inatteso e sorprendente per la tempistica e per i modi. Il direttore Arnolfo dunque si è trovato nella necessità di individuare il sostituto di migliorati. aveva detto, sarà una figura dotata di elevate competenze tecnico-scientifiche e manageriali, scelta in continuità con la linea di indirizzo che caratterizza la direzione e che guarda il futuro nel segno del rinnovamento e dell'eccellenza scientifica. Ed eccolo il nome, è appunto il dottor Giovanni Savini. Ho preso questa decisione con tempestività per garantire la prosecuzione delle attività tecnico-scientifiche dell'ente, ha spiegato Arnolfo, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente direzione sanitaria ma anche con estrema ponderazione. Il dottor Savini infatti rappresenta una figura di spicco del nostro istituto in quanto ricercatore di reputazione internazionale, responsabile di una struttura chiave per un istituto di sanità pubblica veterinaria quale la virologia, leader di numerosi progetti di ricerca, assistenza tecnica e cooperazione internazionale. Questa scelta è in linea con il processo di rinnovamento che l'istituto ha avviato e che ha già prodotto risultati molto soddisfacenti quali l'aumento significativo delle pubblicazioni e dei progetti scientifici. Il dottor Savini, ha proseguito Arnolfo, possiede dunque le qualità giuste per assicurare il mantenimento e il miglioramento dei livelli quali quantitativi della produzione tecnico-scientifica dell'ente, non solo in quanto dotato di grande esperienza tecnica e gestionale, ma anche per la qualificata reputazione di cui gode in Italia e all'estero. Con la scelta di questa figura, la Direzione Generale intende sostenere e dare nuovo impulso al processo di internazionalizzazione dell'ente, pur mantenendo un occhio attento alle esigenze del territorio di appartenenza, per il quale l'economia della conoscenza rappresenta una chiave di volta per una crescita sostenibile e duratura. Giovanni Savini è responsabile del reparto di virologia dell'Istituto Zooprofilattico, che si occupa della diagnosi e della prevenzione delle principali malattie degli animali e delle zoonossi di origine virale. In questo ruolo è responsabile di numerosi progetti di ricerca finanziati dal Governo italiano e dalla Commissione europea, in partenariato con alcune tra le più importanti istituzioni di ricerca europee del mondo. Il fondatore proprietario di Italy, Farinetti, in Abruzzo, lancia una proposta al Governo ridurre del 20% le tasse a chi esporta di più. Sentiamo. Meno tasse alle imprese in grado di esportare di più. Questa è la proposta al Governo del fondatore proprietario di Italy e lo dice rivolgendosi direttamente al Governo. Sottosegretario Legnini, siediti con Padoan e poi andate da Matteo per ridurre dal 10 al 20% le tasse alle imprese che incrementano le proprie esportazioni. La piazza è quella di un evento a Pescara, ben fatto, non contraffatto, che ha concluso la giornata abruzzese di Farinetti, che si è recato anche all'Aquila, mi sono commosso, ha detto. Sulle potenzialità delle imprese italiane, una vera e propria strigliata davanti al sottosegretario all'economia Giovanni Legnini. Dobbiamo diventare un hub da cui partono le nostre imprese. Abbiamo 800 miliardi di spesa pubblica, su cui è duro lavorare per cambiare le cose, 800 miliardi di consumi interni e 400 miliardi di export. Questi 400 miliardi dobbiamo raddoppiarli, c'è domanda. Questa è una cosa possibile, mentre è impossibile ridurre i forestali in Sicilia. 5 i capitoli di impresa, dove l'Italia può fare numeri importanti all'estero, alimentare, moda, industria manifatturiera di precisione, patrimonio artistico e turismo. Farinetti, su quest'ultimo punto, ha sottolineato che gli stranieri in Italia sono 47,5 milioni, la metà di quelli che visitano la Francia. Solo Manhattan, ha detto, ne fa 52 milioni. Il Made in Italy, ha detto il patron di Italy, è il più richiesto, ma non siamo capaci di venderlo. Da noi non alzano il sedere, vanno a vedere, sono pigri e provinciali. Un margine di crescita enorme, ha detto Legnini, che ha accolto la proposta di Farinetti, sottolineando che in Italia c'è uno spread tra reputazione del prodotto italiano nel mondo e la nostra capacità di usare questo margine. La Ruzzoreti SPA comunica che il 26 giugno scorso sono stati collaudati e messi in esercizio i lavori di rifacimento della linea fognaria per acque nere a servizio dei residenti di località Mezzanotte di Teramo per il collegamento alla rete principale ubicata sulla sponda sinistra del fiume Tordino. L'opera è stata realizzata di concerto con l'amministrazione comunale di Teramo che ha provveduto al ricollocamento del ponte pedonale sul fiume Tordino, rimosso per consentire la costruzione della variante stradale denominata Lotto Zero. La sinergia con l'amministrazione comunale di Teramo, si legge nella nota, impegnata nella ricostruzione del ponte pedonale, ha consentito di individuare le somme utili anche ad asservire all'impianto di depurazione di Villa Pavone le utenze di una zona di Teramo così sviluppata. Continua la protesta dei residenti della zona di Viarno, sopra la rotondo valle di Via Po a Teramo, chiedono la sistemazione di una scala che consenta loro di attraversare lo stradone, ma i lavori non sono stati ancora conclusi. Siamo tornati a Viarno questa mattina, siamo tornati a parlare con la signora Santina che aveva minacciato di non andare a votare prima dell'elezione del 25 maggio, poi c'è stato il ballottaggio, ovviamente per votare al Comune di Teramo, perché protestavano per le scale, per la sistemazione dell'area verde e per andare una scorciatoia per poter attraversare poi Via Po. Qual è il problema? Persiste? Io non lo so come si deve parlare qui. A noi queste scale le abbiamo chieste, sono già tre anni che ce le ha chiuso, noi ce l'avevamo questo passaggio qui, ce l'ha chiuso. La rotonda è stata finita, l'accorciatoio che serviva a noi siamo tutti anziani, noi siamo tutte persone verde, vedendo le famiglie, i figli nostri non vivono con noi, è necessario che noi andiamo giù, perché giù ce l'ha chiesto. Però il cantiere è stato aperto qui, i lavori sono cominciati. Il cantiere è stato aperto e ci ha fatto contento e fregato, dite pure questo. Perché ha messo il ricinto e se ne sono andati. E tu che cosa ha fatto? Questo si vede. Ha messo il ricinto e se ne sono andati. Il sindaco quando ho parlato io per questo accorciatoio qui, sai che cosa mi ha risposto? Ma ha detto, avete il cono? Dice signora andate al cono a fare la spesa. Io a fare la spesa vado dove dico io, non dove mi dice il sindaco. Che poi al cono non c'è la chiesa, non c'è la farmacia. Che cosa c'è al cono? La pasta, di faciolo. Signora, hanno messo, ci diceva, la recinzione dell'area di cantiere. Ho visto il cartello, comunque la fine dei lavori presunte è settembre. Quindi hanno ancora il tempo, voglio dire, per lavorare e per realizzare quest'opera. Io questo non lo so, perché a noi non ci ha detto niente a nessuno. Io ho visto solo che ha fatto il ricinto, dopo due giorni. Oddio, ma sai quando l'ha fatto? Inizio il lavoro, lì si legge 3 giugno. I primi giugno o ancora a maggio? No, a maggio, questo è sempre a maggio. Sempre a maggio è stato. Poi ho aspettato mercoledì, sono venuti verso le 4, sì signora, siete venuti per il lavoro? Dice sì, sì, adesso iniziamo i lavori, il tempo di fare il ricinto e poi cominciamo il lavoro. Ha fatto il ricinto, ha fatto la battuta della brecciolina, buonanotte. L'ordine degli ingegneri della provincia di Teramo torna a chiedere al sindaco Brucchi, al dirigente dei lavori pubblici, i criteri seguiti per la nomina dell'Energy Manager. Secondo legge, le attività che dovrebbe svolgere l'Energy Manager, spiega il presidente Alfonso Marcozzi, sono state completamente disattese. D'altronde non poteva essere diversamente dal momento che il nominato non ha le competenze in materia come richiesto dalla norma. La provincia di Teramo è l'unica ad avere un contratto di fiume strutturato, quello sul fiume Tordino, e ad averlo inserito nel piano strategico provinciale per la sostenibilità ambientale. Per questo questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe con specifica delega ai contratti di fiume si è incontrato con l'assessore all'ambiente e all'energia Francesco Marconi e con quello all'urbanistica Vincenzo Falasca per comprendere struttura e obiettivi del piano di attuazione. L'assessore, spiegano, ci ha confermato non a caso è stata istituita da Alfonso una delega specifica che la regione ha intenzione di lavorare sul modello del contratto di fiume con risorse che arrivano dai FAS. hanno dichiarato l'assessore Falasca e Marconi. Ci auguriamo che la nostra esperienza possa fare da prepista anche perché abbiamo già lavorato con il territorio e gli enti locali arrivando a definire un piano d'azione e degli obiettivi condivisi. La Col di Retti nell'augurare buon lavoro al nuovo assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe ha chiesto una maggiore semplificazione per ridurre il carico burocratico che complica la vita delle aziende agricole. Vediamo. Consulenza e innovazione per un'agricoltura al passo con i tempi ma soprattutto una forte azione di sburocratizzazione per le imprese agricole sono i principali temi che Col di Retti Abruzzo ha esposto al nuovo assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe nell'augurare buon lavoro per il mandato appena iniziato. Un incontro in cui l'organizzazione di categoria ha evidenziato che lo sviluppo del settore agricolo passa necessariamente da una maggiore semplificazione e dalla sussidiarietà per ridurre il carico burocratico che complica inutilmente la vita di aziende che oggi più che mai contribuiscono in modo determinante all'economia regionale. L'economia agricola dell'Abruzzo rappresenta infatti il 2,3% del valore aggiunto agricolo nazionale. Si caratterizza per la presenza di oltre 66 mila imprese su una superficie agricola utilizzata pari a 450 mila ettari. Un settore strategico che anche relativamente all'export e all'appeal suscitato tra le nuove generazioni conferma numeri in controtendenza con la crisi generale. Per Coldiretti Abruzzo l'obiettivo è dunque una regione realmente facile per la quale saranno determinanti anche le scelte che si assumeranno sul nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020 in coerenza con le esigenze delle imprese abruzzesi con la necessità del miglioramento della capacità di spesa dei fondi comunitari da parte della regione con le sfide di una nuova agricoltura che fa del legame con il territorio la leva competitiva valorizzando le filiere corte del vero Made in Italy che non è solo un brand ma un contenuto legato realmente al territorio. Coldiretti nell'incontro con l'assessore regionale Dino Pepe ha inoltre salutato positivamente la scelta di una delega esclusiva per l'agricoltura e ha ribadito le priorità inserite nel documento programmatico consegnato ai candidati presidenti prima delle elezioni regionali. La Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi ha svolto nelle prime ore della giornata di oggi un'importante operazione di controllo ribattezzata Spiaggia Libera che ha coinvolto tutto il litorale rossetano. Durante gli accertamenti è stato emesso un verbale contro un cittadino di nazionalità marocchina per vendita non autorizzata sulla spiaggia con conseguente sanzione di 5.164 euro e sequestro della merce. Grazie ai controlli sulla spiaggia è stato sequestrato un ingente quantitativo di merce abbandonata dai titolari che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Questa è stata poi recuperata in sei distinte aree del litorale e depositata presso i locali della Municipale. Sono stati poi recuperati quattro carrelli in ferro per banchi mobili con ruote e cerchi per la vendita itinerante che grazie all'aiuto di due operai comunali sono stati caricati e portati nel deposito Municipale. Infine sempre all'interno delle operazioni di presidio del territorio sono stati identificati e controllati otto cittadini extracomunitari. Sui tagli alle Camere di Commercio interviene la CNA una decisione grave che porta danni alle imprese sentiamo. I tagli decisi dal governo nei confronti delle Camere di Commercio se non rivisti e corretti rischiano di assestare un duro colpo all'economia locale. Lo sostiene il direttore della CNA Teramana secondo cui bene ha fatto il presidente camerale Teramano Giustino Di Carlo Antonio a lanciare l'alarme sulle possibili conseguenze legate al taglio dei finanziamenti agli enti. Tagli denuncia l'associazione presieduta da Gianfredo De Santis che si tradurranno inevitabilmente in un mancato sostegno ad importanti azioni di promozione del territorio senza peraltro rappresentare un effettivo risparmio per le imprese cui resteranno in tasca pochi spiccioli. A detta del direttore provinciale della Confederazione Artigiana Gloriano Lanciotti bene ha fatto Rete Imprese Italia a livello nazionale a ricordare i termini della vicenda con una dura nota di protesta. Se infatti dovesse essere confermata e affermata la logica contenuta nel decreto legge 90 del 2014 attualmente in fase di conversione alla Camera dei Deputati verrebbe disposta in un sol colpo e a partire già dal prossimo mese di gennaio 2015 una riduzione dei bilanci camerali di oltre un terzo un colpo durissimo che si tradurrebbe inevitabilmente in un mancato sostegno alle attività di promozione e marketing territoriale alla partecipazione degli enti camerali ad alcune infrastrutture strategiche come l'aeroporto d'Abruzzo o il porto di Giulianova ad accrescere la prensione del mondo delle imprese il fatto che almeno per il momento i tagli operati sui bilanci camerali avverrebbero praticamente al buio perché illustra ancora Lanciotti la riorganizzazione degli enti con le nuove competenze sarebbe decisa solo in seconda battuta seguendo un percorso ignoto in sostanza prima si taglia e poi si vede cosa si deve fare il comune di Tortoreto si aggiudica ai finanziamenti previsti dagli avvisi pubblici regionali par FAS per una somma ammontante complessivamente a 442 mila euro finalizzati a migliorare il coefficiente di sicurezza antisismica della scuola media ed elementare in via 20 settembre a Tortoreto Alto dopo le difficoltà iniziali la macchina organizzativa della coppa Interamia è lanciata anche grazie al contributo di molti volontari ormai ci siamo praticamente fino a qualche giorno fa era difficile dirlo parliamo ovviamente della 42esima edizione dell'Interamania World Cup ne parliamo con Fabrizio 40 di problemi ce ne sono stati però partiamo dalle cose belle e dalla generosità dei Teramani ci sono state delle persone con enorme sensibilità ci hanno in qualche modo aiutato dal montaggio delle brande chi lo ha fatto? nella scuola dei Jacobis alla Gammarana c'è stato il proprietario del bar Renato che con i suoi amici ci ha allestito la scuola con notevole sollievo da parte nostra che eravamo impegnati in altre attività oltre a questo per esempio ci sono state aziende private come Abruzzo Traslochi che si sono offerti mi hanno chiamato siamo liberi con il camion possiamo darvi una mano oppure ovviamente a gratis certo certo a gratis ma quindi non solo i privati ma anche le aziende pubbliche ovviamente soprattutto la Team di cui veramente bisogna veramente ringraziarli in tutti i modi in questo momento abbiamo delle aree della città che forse erano un po' trascurate impianti sportivi vero? sì devo dire di sì mi dispiace dirlo ma nel senso che ci sono alcuni impianti sportivi della città che erano un po' trascurati ma l'acqua viva la moniari non solo gli impianti sportivi ma anche le zone diciamo gli esterni c'era una situazione fino a ieri una situazione di incuria che è stata in qualche modo risolta grazie al prezioso aiuto della Team ha sponsorizzato ha pagato la dislocazione dei bagni chimici sono arrivati stamattina 7-8 bagni chimici che sono stati dislocati dietro Piazza Martiri e nelle due piazze dove faremo spettacoli Piazza San Costino e Piazza del Sole quindi insomma veramente un grazie alla Team ai privati e soprattutto all'amministrazione comunale che al sindaco Brucchi l'assessore Romanelli la neo-assessore Luca Antoni e in questo momento siamo pronti siamo in attesa dell'arrivo dei 3.000 ospiti Da oggi presso il laboratorio Arca e Largo San Matteo a Teramo la personale di un grandissimo artista della transavanguardia Enzo Cucchi la personale ricade all'interno della manifestazione Arte in Centro Enzo Cucchi all'Arca di Teramo parte visioni parte visioni non solo a Teramo ma anche a Civitella del Tronto per la manifestazione che comprende addirittura due regioni che è l'Arte in Centro Sì Arte in Centro è un'occasione unica la grande idea che in qualche modo comincia a circolare della macro regione si concretizza anche in questo ma con grandissimo orgoglio noi possiamo dire che Teramo la provincia di Teramo e poi ci sarà anche Castelbasso però la provincia di Teramo inaugura visioni che quest'anno vede collaborare la fortezza di Civitella con l'Arca per la prima volta e come prima volta non potevamo in qualche modo avere un'occasione migliore come quella di avere un progetto inedito realizzato per questo spazio da sicuramente uno dei più grandi artisti internazionali uno dei grandi artisti della transavanguardia ma che ha saputo in qualche modo davvero esprimere una capacità un eclettismo una volontà di esplorare i grandi territori dell'arte in maniera esemplare ed è rimasto appunto uno dei grandi protagonisti dell'arte internazionale contemporanea il fatto che approdi qui con un progetto inedito realizzato per questo spazio in qualche modo ci riempie di grande orgoglio questo progetto a livello curatoriale è firmato da me e Giacinto Di Pietrantonio che insieme a me domani alla Rocca di Civitella realizzerà i secondi appuntamenti quelli di Gianluigi Colin e di Visione Territoriale di cui parleremo successivamente ma qui abbiamo davvero una straordinaria meraviglia cioè opere inedite solo alcune sono apparse recentemente in due importantissime gallerie italiane di altissimo livello ma che qui trovano per la prima volta collocazione e adesso accoltiamo l'artista Enzo Cucchi ci sono molte opere inedite molte sue opere inedite qui all'Arca vogliamo spiegare a chi verrà tutta la gente che verrà magari qui a vedere le sue opere che cosa vedrà che tipo di opere sono inedite in quanto diciamo sono le ultime essendo le ultime sono le più vecchie perché non sono le più giovani da spiegare c'è poco lei dice si rimette all'occhio del visitatore insomma assolutamente sì cosa dovrebbe vederci un visitatore in un'opera d'arte non dico sulle sue a cosa si deve lasciare andare insomma deve avere la pazienza di guardare di approfondire se gli fa piacere deve essere un sollievo naturalmente senta si parla di macroregione anche nei rapporti artistici tra Marche e Abruzzo lei ha usato ha utilizzato la ceramica di Castelli per alcune sue opere come si è trovato? non bene benissimo ma vengo a Castelli da tantissimi anni non è la prima volta già penso più di vent'anni fa che ho usato a Castelli soddisfatto dell'allestimento? assolutamente sì molto l'associazione dei consumatori Robin Hood segnala telefonate da parte di addetti Sky nelle case dei terramani per chiedere pagamenti non dovuti vediamo gli addetti Sky in questi giorni stanno facendo telefonate per recupero crediti ai cittadini terramani che però hanno disdetto l'abbonamento sì è una cosa veramente vergognosa perché in pratica telefono in continuazione a qualsiasi ora su diversi numeri di telefono chiedendo il pagamento di una cosa che non è dovuta siamo di fronte a tutti questi casi dove il cittadino ha fatto la disdetta disdette che evidentemente gli uffici Sky non hanno registrato non vogliono diciamo registrare come tale in tutti i casi è stato accertato che i pagamenti non sono dovuti? no è stata fatta la disdetta con cui la disdetta la normativa l'autorità garante le comunicazioni prevede che dopo 30 giorni la disdetta ha efficacia in molti casi era stato consigliato anche l'apparato e quindi diciamo noi troviamo vergognoso oggetto di segnalazione il fatto che appunto ci si permette queste cose ma poi dicono di tutto e di più è arrivata una persona disperata piangendo perché dice mi hanno offeso mi hanno detto che sono un delinquente che non voglio pagare che ho utilizzato il servizio quando io già ho staccato tutto e quindi questa cosa non è vera l'associazione Robin Hood ha segnalato in questi giorni anche una problematica legata alle società di sicurezza sì in pratica anche qui c'è una casistica incredibile intanto partiamo da un presupposto è un momento di crisi le aziende chiudono purtroppo non ce la fanno più e chiudono oppure le aziende cercano di limitare i costi quindi sia nell'uno che nell'altro caso magari il costo del servizio di sicurezza se uno chiude l'attività non gli serve più può essere un oggetto di riduzione dei costi dell'azienda e in questi casi questa società pretendono il pagamento per i 5 anni 3 anni tutto il periodo residuale anche se di fatto i servizi non possono svolgere cioè se io chiudo l'attività quindi che vanno a controllare quale sicurezza vanno a controllare se l'attività non c'è più insomma siamo veramente in una babbele di situazioni veramente drammatiche per colui che deve pagare salvataggio sulle spiagge e ripasso delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l'uso del defibrillatore sono stati gli argomenti della giornata di aggiornamento che il comandante dell'ufficio circondareale marittimo di Giulianova Sandro Pezzuto ha organizzato con la collaborazione del personale istruttore del 118 di Teramo nella sala convegni dell'ospedale Giuliese e rivolto ai bagnini che lavorano nel servizio di salvamento sull'arenile di Giulianova primo anello della catena di soccorso i bagnini sono stati formati alla corretta applicazione delle norme e delle cautele di sicurezza perché possano offrire il loro competente servizio ai bagnanti e a proposito di mare andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di domani in Abruzzo così possiamo capire se appunto raggiungere l'età costiere nella giornata di domani Previsioni in Abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle aree colinarie e montane sereno sulle aree litorane nel pomeriggio poco nuvoloso sui settori appenninici poco nuvoloso sui settori costieri tra sera e notte poco nuvoloso sui settori interni e sui rilievi sereno sui settori marittimi temperature stazionarie massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle conche aquilane marsicane tra 29 e 32 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli a regime di brezza mari quasi calmi o poco mossi in provincia di Teramo al mattino deboli addensamenti lungo la dorsale appenninica soleggiato altrove con velatore in transito tra pomeriggio e sera nubi sparse sui settori interni localmente intensi a ridosso delle aree montane ma senza precipitazioni poco o parzialmente nuvoloso sulle zone orientali della provincia tra sera e notte rasserenamenti estesi temperature stazionarie massime comprese tra 28 e 31 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 29 e 32 gradi sulle coste venti deboli o moderati in regime di brezza mari quasi calmi o poco mossi nove squadre di Lega Pro su 59 non hanno presentato l'adeguata fideiussione a garanzia dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C unica Teramo e l'Aquila non sono tra le compagini inadembienti i due club abruzzesi infatti hanno già presentato la domanda con la corretta documentazione nei tempi stabiliti fuori per il momento risultano esserci Grosseto Ischia Isola Verde Mantova Melfi Pavia Propatria Padova Regina e Viareggio queste società hanno tempo fino al 15 luglio per regolarizzare la propria posizione il 18 luglio invece in programma il Consiglio federale che ufficializzerà iscrizioni d'organici dei tre gironi della Lega Pro Unica 2014-2015 e a proposito di squadre a rischio fallimento in Serie B sono tre i club che rischiano di scomparire il Brescia il Siena e il Varese l'eventuale fallimento del Brescia in particolare potrebbe ripercuotersi anche sul mercato del Teramo Federico Serraiocco che a gennaio era stato acquistato proprio dal Brescia con la formula della compartecipazione tornerebbe infatti tutto di proprietà della squadra del patron Campitelli facendo venire meno la necessità di trovare sul mercato un nuovo portiere stanno cominciando stanno cominciando ad arrivare a Teramo le prime delle 141 squadre in rappresentanza di 36 nazioni e di 4 continenti che parteciperanno alla 42esima edizione della Coppa Interamnia domenica mattina cominceranno le gare nei nuovi campi allestiti nella città di Teramo e sempre domenica alle 21 la grande parata inaugurale in centro storico che quest'anno sarà trasmessa in diretta da Teleponte ma seguiamo il servizio Lucia Verticelli da anni ormai nella segreteria organizzativa nel cuore pulsante dell'organizzazione della Coppa Interamnia domenica si parte sì domenica si parte già dalla mattina si inizia a giocare qui al campo centrale in tutti i nuovi campi del torneo dalle 8.30 fino all'ultima partita del pomeriggio quindi siamo già pronti per partire e stanno per arrivare tutte le squadre le delegazioni anche perché domenica sera c'è la sfilata che riprenderemo noi in integrale in diretta e andrà anche su Teleponte sì allora domenica sera ci sarà la parata inaugurale con tutte queste squadre che stanno già arrivando alcune squadre già sono arrivate anche degli arbitri stranieri abbiamo già iniziato ad accogliere tutti gli arbitri come prima volta ci sarà il Nepal e lo Zimbabwe e tutta la delegazione della Polonia che è sempre super numerosissima quindi ce ne accorgeremo durante la sfilata i danesi che sono sempre tantissimi quindi invitiamo tutti alle nove a venire qui lungo il percorso della sfilata e in Piazza Martiri dove si conclude Racomognano ricordiamo il percorso di tutti gli atleti della sfilata? sì il percorso è sempre quello che partiranno dai Tigli iniziano da lì e poi scenderanno lungo il corso e arriveranno qui al campo centrale come sempre entreranno al campo e poi tutti quanti a fare festa continuiamo ad occuparci di pallamano sono tante le società che non parteciperanno al prossimo campionato di Serie 1 in campo maschile oltre alla tecnoelettronica anche Cus Palermo e Cus Chieti hanno alzato bandiera bianca per problemi economici tra le donne invece in casa HF Teramo il general manager Roberto Canzio sta lavorando per costruire una squadra che possa farsi valere nel prossimo campionato il servizio anche nella pallamano è tempo di pensare alla prossima stagione tante le società che non saranno i nastri di partenza del nuovo campionato in campo maschile oltre alla tecnoelettronica a Teramo non ci saranno Cus Palermo e Cus Chieti che hanno alzato bandiera bianca a causa di problemi di natura economica in campo femminile niente da fare per Mestrino Altavilla Scina Palermo e la neopromossa San Giovanni La Punta anche in questo caso decisiva è stata la mancanza di aiuti da parte degli imprenditori e delle istituzioni locali tutte le altre squadre invece sono già proiettate sul mercato tra gli uomini una delle società più attive è il Carpi che ha tutta l'intenzione di conquistare quello scudetto che l'anno scorso è sfuggito in finale per questo gli emiliani hanno già ingaggiato diversi big tra loro anche Pierluigi Di Marcello e Vito Vaccaro entrambi ex Teramo tra le donne invece si muove qualcosa in casa HF Teramo i primi annunci ufficiali arriveranno non appena il general manager Roberto Canzio avrà risolto alcuni intoppi di natura organizzativa sul piano tecnico l'allenatore sarà Settimio Massotti a lui verrà affidata una rosa completamente rinnovata rispetto a quella della scorsa stagione sono soltanto due infatti le giocatrici sicure di restare in bianco rosso Lucilla Sletler e Giorgia Di Pietro a loro dovrebbe aggiungersi anche Daniela Palerie la cui conferma appare scontata più delicata invece è la posizione di Daniela Dovesi i dirigenti vogliono tenerla ma la giocatrice ha sparato una cifra troppo alta per le casse di Teramo almeno per il momento l'accordo è in alto mare niente da fare invece per Cinzia Albertini il cui rendimento ha deluso le aspettative e Martina Mazzieri che non rientra nel progetto tecnico di Massotti per quanto riguarda la campagna acquisti dovrebbero arrivare almeno cinque giocatrici un'argentina due cilene che vantano anche un'esperienza con la nazionale del loro paese e un paio di italiane attualmente svincolate a tal proposito sarebbe in corso una trattativa con alcune ragazze di Mestrino e Palermo Il Multisport Day Camp 2014 organizzato dalla società Basketball Teramo verrà sospeso durante tutto il periodo della Coppa Interamnia a causa dell'arrivo delle squadre della manifestazione internazionale di pallamano che usufruiranno della palestra San Gabriele come alloggio le attività del Multisport Day Camp riprenderanno lunedì 14 luglio alle 8 ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito l'informazione torna come sempre puntuale domani alle 14 buon fine settimana grazie per aver guardato